Ci sono sfide che non sono come tutte le altre e sicuramente quelle con l'Olimpia-Milano non lo sono. La Dinamo Banco di Sardegna tiene testa alle scarpette rosse in una battaglia appassionante e una partita che non trova padrone fino all'ultimo possesso. I ragazzi di coach esposito partono forte e tengono testa a Milano fin dalla prima frazione che però chiude avanti con una preghiera di Kuzminskas. Sia nel secondo sia nel terzo quarto i bianco-blu vanno sotto in doppia cifra ma trovano la reazione per riportarsi a contatto. Negli ultimi dieci minuti i giganti chiudono la rimonta mettendo in campo cuore attributi e grinta. La bomba di Benford manda le squadre all'overtime. Nei cinque minuti supplementari il banco paga lo sforzo extra fatto per riportarsi in partita e il finale punto a punto premia l'Olimpia. Il banco esce però a testa alta da una battaglia senza esclusione di colpi in cui tutti hanno dato il loro contributo alla causa. Spicca un super Benford a referto con 32 punti, 5 su 9 da 3, 4 rimbalzi e 9 falli subiti per un totale 31 di valutazione. Bene Jack Cooley, 17 punti e 19 rimbalzi. Rashwan Thomas e James Smith. Ma in generale buona prestazione corale di un gruppo Maedomo che sul parquet ha davvero dato tutto. Il coach della Dinamo Banco di Sardegna, Vincenzo Esposito, commenta così la gara. Non mi aspettavo un pubblico del genere, stasera è stato davvero un bello spettacolo. Nei due o tre momenti difficili della gara ci ha aiutato tantissimo a superarli. Poi noi siamo stati bravi a crederci sempre, a tenerci attaccati e a cercare sempre un break. Chiaramente, proprio nei momenti in cui riuscivamo a portarci avanti, l'esperienza di Milano si è fatta sentire, ma sono molto contento dell'approccio e della mentalità dei miei ragazzi. Stasera c'è tanto di positivo, anche se la vittoria è andata all'avversario. Voglio lo stesso tipo di energia e atteggiamento anche nelle prossime gare. Se riusciamo a giocare così sempre, possiamo dare fastidio a chiunque. Ora ci concentriamo sulle prossime gare sia di campionato sia di Coppa, cercando di fare al meglio già mercoledì contro Varese e per quanto riguarda il campionato, cercando di stare dentro il gruppo delle prime otto.